Riqualificata la palestra del Verde nel Parco Nazionale delle Cinque Terre grazie a un intervento di forestazione finanziato attraverso l'annuale campagna Compostiamoci Bene di Ikea Italia. L'intervento ha messo a dimora mille nuove piantine. Ad esserne interessato il tratto del Sentiero 1 che dal Monte Parodi si snoda per un tragitto di circa 10-12 km fino a Porto Venere attraverso un percorso panoramico che si affaccia sul Golfo della Spezia e sulle Cinque Terre. Ricordiamo che la palestra del Verde è all'interno del sito UNESCO e all'interno del SIC che è il sito di interesse comunitario e per questioni anche climatiche sono arrivati dei parassiti che hanno distrutto la nostra parte di bosco avevamo fatto un progetto di ristrutturazione della palestra sette anni fa mettendo attrezzi nuovi però mancava una rinnovata gestione del verde. L'intervento di forestazione si inquadra nella campagna natalizia promossa da Ikea. Dalla metà di novembre del 2016 in tutti i negozi d'Italia Ikea è stato infatti possibile acquistare un albero di Natale. Per ogni abete venduto Ikea ha contribuito con 2 euro a riqualificare aree in stato di abbandono e a rischio di dissesto idrogeologico. Quest'anno abbiamo deciso di destinare i fondi raccolti attraverso questa campagna ad un'attività di prevenzione di rischio idrogeologico nel Parco delle Cinque Terre e ci fa molto piacere essere qui e ci fa anche molto piacere aver lavorato ad un progetto finalmente dedicato alla prevenzione e non solo all'emergenza che è normalmente la modalità con cui si lavora sul territorio. Partner di questa campagna Compostiamoci Bene a Zero CO2 che progetta e realizza soluzioni per la riduzione dei consumi energetici e interventi di forestazione idonei alla compensazione delle emissioni di CO2 e alla riqualificazione del territorio. Noi abbiamo quasi messo da parte questo concetto negli ultimi decenni. Per fortuna questo meccanismo sta ripartendo perché c'è la consapevolezza dell'importanza di fare interventi di questo tipo anche dal punto di vista forse soprattutto del dissesto idrogeologico. Se tu non curi la parte alta delle colline e dei boschi poi succedono delle cose brutte, delle disgrazie perché vengono giù e quando arrivano giù i danni li fanno. Quindi questo è anche un modo per tornare alla gestione del bosco e fare interventi dove il bosco non c'è più ti aiuta sotto tantissimi punti di vista. Tieni il territorio, fai rivivere quel territorio perché le persone poi ci tornano a visitarli quei luoghi.